Ciao ragazzi siamo tornati pensavate che vi avessimo abbandonato che avessimo lasciato youtube italia ma stiamo scherzando ma vi pare cioè ma secondo voi abbiamo fatto tutto questo casino per dimostrarvi che i nostri scherzi sono reali sono reali e questa è un'ottima dimostrazione ci avete creduto tutti ci dispiace per chi ci ama che ci ha creduto però dovevamo farlo dovevamo farlo anche perché è una lezione importante per tutte le persone che odiano e sanno solo odiare che in realtà queste persone vanno prese per il culo ok esattamente come abbiamo fatto noi quindi abbiamo visto che facendo questo scherzo abbiamo ottenuto la youtube italia che volevamo e a gran sorpresa volevamo annunciarvi l'inizio della nostra fantastica web serie e quindi raga stasera alle 9 tutti sul canale di scherzi di coppia per guardarmi la prima puntata ok volevati dei cambiamenti su youtube italia ecco lì e ce ne saranno molti altri quindi state tutti pronti collegati mi raccomando e buon divertimento sì ma non essere fake non essere fake tu non essere luca guarda che ti butto giù dal terrazzo ok non dire queste cose che poi la gente li scambia per softporn allora baciami no katia non possiamo basta questo bacio da oggi in poi io e katia non li moneremo più ci vediamo stasera ciao raga ciao a tutti siamo luca e katia pur amandoci alla follia dicono che siamo una coppia quanto strana probabilmente hanno ragione dai bubi viene a casa sono qui tranquillo dai è passato tutto ma meno male perchè hai rotto le palle abbastanza che sta arrivando ma è sempre così se sta arrivando katiii niente adesso andiamo a casa e distruggiamo tutta la sua parte ok andiamo bella vieni 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 qua 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 faremo la famiglia d'altanzo versus la famiglia brini no dai ma no dai ma famiglia mi stanno portando a parte da tuasso no 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 All'attacco! Prendetelo! Vieni a benedirlo! Arriva il prete! Basta, basta! Capita! Benedirlo, capita! Sei pronto per essere stronti!